Cava Ferro Prodotti Siderurgici offre cortesia e professionalità. Vienici a trovare in via Cesaro Giovanni X, Cava dei Tirrelli. Sembrano arrivare buone notizie da Palazzo Sant'Agostino per quanto riguarda via Pasquale di Domenico, la strada provinciale 360 chiusa dallo scorso febbraio per uno smottamento che sta letteralmente tagliando in due la località Sant'Anna, arrecando tantissimi disagi ai cittadini della zona. Infatti il Consiglio Provinciale, che si è riunito ieri mattina, ha approvato una variante al piano triennale delle opere pubbliche inserendo l'intervento di ripristino della strada provinciale 360 per un importo complessivo di circa 500.000 euro. Alla seduta del Parlamentino Provinciale ha preso parte anche una folta delegazione di cittadini di Sant'Anna, capeggiati dal consigliere comunale Vincenzo Lambert, che dopo la vibrante protesta messa in scena qualche settimana fa hanno deciso di far sentire nuovamente la propria voce a Palazzo Sant'Agostino. Soddisfazione per l'importante risultato ottenuto è stata espressa dal sindaco Vincenzo Servalli in qualità anche di consigliere provinciale. Avere ottenuto i soldi in pochi mesi è quasi un record se si tiene conto che altre state provinciali attendono finanziamenti ormai da anni. Ma, ha commentato Vincenzo Lamberti, continueremo a lottare con forza e determinazione per far attuare la soluzione provvisoria perché quella definitiva non si concretizzerà prima di sei mesi. I cittadini di Sant'Anna infatti ora spingono affinché la provincia dia il nulla osta per la messa in sicurezza parziale della strada consentendo almeno il transito alternato delle autovetture.